Nelle ultime 48 ore, ben 5 persone sono state arrestate da personale della squadra volante e dei commissariati cittadini. Si tratta principalmente di pusher stranieri provenienti dal continente africano e regolarmente residenti in Italia. Lunedì mattina, invece, nel contesto di un'operazione condotta dalle gentili commissariato Dola Vanchiglia, è stato arrestato a Carmagnola per detenzione di sostanze superfacenti un 57enne italiano. I poliziotti hanno rintracciato l'uomo nei pressi di un bar di via Torino, in una cantina di uno stabile di via Bussoleno, nella disponibilità dell'arrestato. Le genti hanno trovato anche, grazie all'ausilio dell'unità cinofole, sostanza superfacente. In particolare, sono stati trovati quasi un centinaio di grammi di cocaina e tutto necessario per il confezionamento delle dosi.